Musica Bella ragazzi Siamo un poco scazzati oggi Abbiamo avuto problemi Per una serie zombie che non poi vedrete Per un altro problema Di un'altra età della pietra E ora stiamo riprovando età della pietra Oggi non è giornata proprio Road to 150 punti ad età della pietra Vediamo se oggi forse è la giornata buona Per fare almeno questa cosa Siamo sensatissimi Almeno vediamo di fare qualcosa di buono Cerchiamo di combinare qualcosa di buono Alla fine della serie zombie metteremo come clip Tutti i fuori onda Bestemmievoli ovviamente Bestemmiosi Umayled Porco Tuo madre E che cacchio è Gli stavo tirando Quel tomo che glielo stavo tirando Dritto nel cervello Si vieni qua No Liscio Tomahawk Tomahawk Lì parla con me Tomahawk Maria Morto Ah dobbiamo ringraziare La compartecipazione Nostro sponsor Noi non abbiamo uno sponsor Mamma che ti ho fatto un bestiale questo Vabbè un coltello mi hai tirato Non è che è Ah Ma non muori questo La pru Ah Sì Sì più persone dai dai Ti ho ucciso io Maldio L'altro figlio di Pucco Umiliato No 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 Ero il primo dei primi Ma va Il primo dei primi Il capo dei capi Figlio da merdo Figlio da merdo Che cazzo è Orco Umiliato Ah vai Umiliato No Minchia stavo facendo il prossimo Umiliazione a catena Sì sì Umiliato No Sì le balle Umiliato Tant'era zero Guardi no Coltello È un'umiliazione morale questo Umiliato Vaffanculo Tanto era zero Ero primo Vaffanculo Su chiamelo Morto Su chiamelo Vabbè ci sta ogni tanto Minchia Quel 150 signori Non lo vedremo Mai Mai Io ero a 50 E' arrivato Ed ero ancora iniziato Dio Vabbè a quanto eri Charlie in merda 25 Ah vabbè dai Dai ci sta Sì 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 si Sì Oddio 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 Umiliato Ma cos'è io ci sono passato davanti e non l'ho visto Sì anche io frate Non ho visto niente Impressionante Oddio 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 Ma che cazzo è? Era un assedio! Umiliato! Sì, ma lo umiliamo a quello stronzo che è a 50, tutti quanti contro il signor Duiglio 999. Figlio di merda! Oggi dobbiamo organizzare per far rinunciare a uno. No, però no! Io proporrei per me, io proporrei per me! Io proporrei per me! E io proporrei per... Serie Zombie è andata a puttare! Per oggi sì, per oggi è andata. Per un motivo molto oscuro e osceno. Chi cazzo è? Ma che Dio è? Minchia, Tom Hawk, che volano, signori impressioni. Ah va, minchia, ma sempre a me... Sempre quel cazzo di controller di merda, io ti ammazzo se mi rompi il filo. Ma che cazzo? Llega di Dio bastardo, collega. Umiliato! Minchia, però che rottura del cazzo quel Duiglio 999, ah! Non si può fare nulla, eh! Che cos'è? Lo volete umiliare? Lo umiliate? Dov'è? Che schifoso. Minchia, il mio Tom Hawk a mare è finito, va! SEEEEE! Vabbè, era zero, frate, non mi cambia! Figlio di Troi, mi ha umilato. Umilato! No, umiliato! Oh, è one shot, one kill! Dio, umiliato! Ma che cazzo non moriva? Eh, ero zero. Umiliato! Ah, ma porca madonna! Ma che otto! E' otto! E' otto! Nessuna otto! Ma che cazzo, 80 lo volevo! E vabbè, ma sono otto uccisioni! Non è vero! Non è vero! No, no, non è vero! Tra tutte quelle umiliazioni! Potremmeno essere anche sedici, va! Tu non me lo scorda! Figlio di Troi! Troi! Lo dovevi umiliare a Duilio! Non ne avevo tolto! Che cazzo! Ma che allora lascia... Me lo dovevi lasciare a me! Lo seccavo subito! Lo umiliamo a... Cioè, signori, a 95! Se questo sfondo i 150, io lo ammazzo un po'. Non mettiamo il video! Non mettiamo il video! Non mi uccidete quando sto andando a ucciderlo! Ma... Quindi se mettete questo video, vuol dire che non è... Non è arrivato mai a 150! C'è 115-24 secondi! 125, SIGN! UMILIATO! SIGNI! 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 Sono un PRO! UMIVIATO! UNIVIATO! UMIVIATO anche lui! UMIVIATO! UMIVIATO anche Simone... Ma bastardo, lo avocado normal! 7 6 5 4 3 2 1 SIGNI! VEGAS! Sì ma allora dobbiamo dire che tutto il merito è del vero XXVegas che ha umiliato Duile e poi ha umiliato pure Charlie Se no tu non avresti vinto mai mai Guardate questa umiliazione finale Ma che cazzo Quanti ne avevi fra te? Tre Comunque Signori senza staccare questa partita noi ci riproviamo un'altra partita sempre dai jacket e sempre ta della pietra